forte vento nelle marche centinaia di interventi dei vigili del fuoco interquartieri di muraglia a marzo il completamento capitale della cultura e quel mezzo milione di euro che continua a latitare valle foglia brucia le tappe pronto il bilancio di previsione per i prossimi tre anni a gazza portando il freestyle l'esperienza di una pesarese una buona serata a tutti voi amiche e amici di rossini tv ben ritrovati a rossini tv ben ritrovati al nostro spazio informativo della sera telegiornale di venerdì 3 di novembre un'altra giornata caratterizzata da forti raffiche di vento diffuse in tutta la regione marche infatti nelle ultime 24 ore sono stati 230 circa gli interventi dei vigili del fuoco per rimozione di rami caduti sulle sedi stradali o per infissi pericolanti particolarmente colpita la provincia di pesaro e urbino dove con quella anconetana si sono svolti la maggior parte degli interventi soprattutto nelle aree collinari al momento non si segnalano particolari criticità ed è possibile un nuovo peggioramento meteorologico nella giornata di domenica a natale si avrà il primo tratto dell'interquartieri lato sud di muraglia zona baratov e poi a marzo l'inaugurazione del completamento dell'intera circonvallazione è stata infatti una giornata di sopralluoghi quella di oggi per il sindaco matteo ricci in compagnia dei tecnici di società autostrade in merito ad una delle opere stradali più complesse della città secondo il primo cittadino i lavori proseguono secondo il crono programma per quella che sarà una infrastruttura strategica perché realizzata anche per raggiungere il nuovo futuro ospedale nell'occasione odierna ricci ha ricordato come prosegue anche la progettazione delle altre opere accessorie autostrade per l'italia infatti già fatto le bonifiche belliche archeologiche per la bretella di santa veneranda il raddoppio dell'urbinate e la bretella gamba che dalla monte labattese si collegherà all'attuale casello e poi l'ultimo lavoro che verrà realizzato sarà il nuovo casello unidirezionale di santa veneranda ed ora la politica sta suscitando malumore su sponda pesarese il continuo rimandare da parte della regione marche dei finanziamenti promessi nei confronti di pesaro capitale della cultura 2024 l'ultima promessa è quella di inserire il finanziamento nel bilancio regionale di fine dicembre promessa che non cancella una delusione pesarese che attende ancora mezzo milione della regione marche destinato all'evento di pesaro capitale della cultura ovvero metà di quanto prefissato dalla giunta a quaroli per pesaro 2024 un ritardo frustrante dopo che lo stanziamento non è stato ritenuto prioritario nemmeno nell'assestamento di bilancio della settimana scorsa la regione ha stanziato nel 2022 un milione di euro cioè quello per quello che aveva promesso dopodiché qualche settimana dopo l'ex assessore alla cultura latini si è presentata in commissione chiedendo di spostare 500 mila euro del milione assegnato per spostarlo ritenendo altri progetti più urgenti e più importanti già in quella fase nel 2022 mi ero posto dicendo che più importante di peso la capitale della cultura secondo me non ci potevano essere progetti ancora più importanti ma è quindi questa questi 500 mila euro sono stati dirottati da un'altra parte oggi siamo qualche mese ormai da quando inizierà peso 2024 e ancora nonostante i tre emendamenti che ho fatto dal 2022 fino a qualche giorno fa ancora la regione non ha ripristinato i 500 mila euro che ha dirottato per altri progetti io penso che questo sia veramente molto grave perché addirittura in in aula qualche settimana fa è stato dichiarato che non è non era urgente e che peso non era non era tra le priorità consistito perché ad oggi l'amministrazione avrà bisogno di risorse certe per poter programmare probabilmente verranno inserite qualche giorno prima della fine dell'anno ma questo è molto grave perché peso avrà bisogno delle risorse prima per poter programmare tutti gli eventi che saranno fatti nel 2024 già sono pochi nel senso rispetto ad altre regioni ci mancherebbe altro che non arrivasse io confido che arrivino il prima possibile del resto la capitale della cultura si farà ma si farà con le risorse che ci verranno date con quelle che stiamo trovando dalle varie sponsorizzazioni e quindi la regione marche dovrebbe essere secondo me più fiera di questo riconoscimento la prima volta che capita una città delle marche non solo ci aspettiamo quel contributo ma ci aspettiamo anche che la regione promuova maggiormente la capitale della cultura perché attraverso la capitale della cultura noi vogliamo promuovere tutte le marche abbiamo già coinvolto tutti i comuni della provincia sarebbe davvero un peccato che questo grande avvenimento non diventasse un modo per promuovere l'intera regione e restando in tema di cultura sta per partire il restyling di una delle istituzioni culturali più distintive della città di pesaro quella di palazzo olivieri sede del conservatorio che in queste settimane si prepara ad un trasloco per proseguire la sua attività didattica entra nel vivo l'attesa riqualificazione di palazzo olivieri storico edificio del centro storico che dal 1892 è sede del conservatorio rossini stanno infatti per essere messi a terra 5 milioni e mezzo di finanziamento ministeriale per il restyling del secolare palazzo che necessita di radicali interventi sul tetto sui servizi e sul ripensamento degli spazi un semaforo verde lavoro annunciato a luglio con la chiusura del bando di gara per un cantiere che doveva partire in questo periodo autunnale ma che invece scatterà a gennaio con l'obiettivo di riqualificare l'edificio entro la fine del 2025 più di due anni in cui vanno ripensati gli spazi del conservatorio rossini il primo passo della direzione dell'istituto è stato quello di rinviare al 13 di novembre la partenza dell'anno accademico in attesa di comprendere l'esatta geografia e tempistica degli spazi da liberare andranno infatti gradualmente sgomberate le aule e le preziose attrezzature musicali al suo interno già definiti gli accordi per una didattica che verrà dirottata negli spazi di palazzo gradare mamiani e alla scuola media gaudiano in netto anticipo sulla fine delle 2023 il comune di valle foglia ha già approvato il suo bilancio di previsione per quello che riguarda il triennio 2024-2026 si tratta di una eredità amministrativa in salute che il sindaco ucchielli lascerà al suo successore a fine mandato a sette mesi dalla fine del mandato del sindaco ucchielli il comune di valle foglia brucia le tappe e presenta il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 un bilancio approvato nel consiglio comunale del 31 ottobre che fa di valle foglia uno dei comuni italiani più rapidi in questo senso amministrativo il risultato è il prodotto di un lavoro certosino fatto di conti in ordine e i benefici di nove anni di fusione comunale quest'anno grazie alla fusione alle fusioni che ci sono state abbiamo un po' di respiri in più ci sembrava buona norma dare a 6-7 mesi dalla fine del mandato alla struttura la capacità piena non in dodicesimi di avere tutte le risorse disponibili per realizzare gli obiettivi e in terzo luogo abbiamo avuto grazie alla fusione 3 milioni di avanzo di amministrazione 2022 abbiamo avuto circa una quindicina di milioni in questi nove anni sempre dalla fusione diciamo per i prossimi cinque anni chiunque governerà questa città questo comune abbiamo avuto un milione 6 per cinque anni che vuol dire avere più serenità un bilancio di circa 15 milioni di euro due terzi dei quali destinati a spese correnti in un equilibrio tra nuovi investimenti e accantonamenti il bilancio prevede come previsto dalla legge tutti gli accantonamenti obbligatori e proprio grazie a questo e grazie al fatto che gli indici di bilancio sono congrui sono a posto ci possiamo candidare come dicevo prima anche a finanziamenti di enti sovraordinati dallo stato al finanziamenti europei e questo ci consente di poter liberare risorse sul fronte delle entrate correnti delle spese correnti delle spese per investimenti e da destinare risorse fresche da destinare a tutti gli interventi fatti nel territorio a partire dagli interventi e soprattutto per la messa in sicurezza che ultimamente richiedono più risorse diciamo del previsto e ci ha consentito di mantenere negli anni anche il livello come diceva prima il sindaco di spesa sociale spesa per la cultura che non è sempre scontato poter mantenere in questi anni perché purtroppo non essendo spese tecnicamente obbligatorie nei bilanci in difficoltà sono le prime a dover essere sacrificate lavoro sul bilancio che si trascina l'effetto positivo di estinzione di diversi mutui e di nuove risorse esterne ha avuto solo due milioni e mezzo sulla rigenerazione urbana un milione due per il nido sempre fuori bilancio dallo stato ci consentirà di fare tre quattro investimenti enormi due milioni e sul palazzetto dello sport per portarla a dieci metri mille cinquecento posti per consentire alla squadra di serie a femminile di fare i campionati europei qualora dovesse andare bene i campionati italiani ma anche di pallacanestro oppure che so diciamo novecentomila euro nelle mura castellane sempre dalla rigenerazione urbana per col bordo lo stiamo lavorando con l'università per sant'angelo col bordo lo montefarmi per rendere fruibile anche le grotte anzi già fatta anche dei preventivi novecentomila euro sul fosso taccone c'è un progetto di tre milioni speriamo di riuscire col consorzio di bonifica con la regione ad avere anche gli altri due milioni e poi circa una milionata sul contenimento energetico nel senso che tutte le lampade a led e non c'è più una vecchia lampada che consumava il doppio di quel che consumano queste oltre che illuminano meglio e poi diciamo sui trasporti scolastici sulla spesa sociale ecco veramente siamo dopo nove anni di governo date le risposte su tutte le cose più significative il raddoppio del depuratore il comune nuovo in legno le scuole nuove quasi tutte in legno tutte antisismiche la piazza nuova e la ciliegina e la torta dopo aver ristrutturato il teatro branco a sant'angelo dell'isola il nuovo teatro giovanni santi che si inaugurerà entro la fine dell'anno ucchielli ha ricordato anche la compattezza amministrativa che ha portato al risultato di un bilancio approvato in consiglio comunale con un solo voto contrario noi siamo in ordine quindi possiamo lavorare fino alla fine della legislatura con molta tranquillità serenità noi la parte politica ma gli uffici soprattutto che devono realizzare gli obiettivi progetti costruttivi di integrazione e emancipazione franati del tutto in 26 giorni di autentica tragedia umanitaria parliamo della striscia di gaza e lo facciamo oggi con un'intervista ad una pesarese che in quei luoghi assediati ha cercato in questi anni di portare progetti di libertà progetti come quello di gaza freestyle gaza freestyle è un collettivo appunto nazionale che nasce dal dallo spazio sociale lambretta di milano nel 2014 e nasce appunto con l'esplosione del freestyle all'interno della striscia di gaza quindi l'esigenza che ragazzi e ragazze avevano di esprimere se stessi attraverso la libera espressione lo stile libero e quindi qualsiasi disciplina artistica quale lo skate i graffiti la musica quello che è nato da come risposta italiana internazionale è stata quella di uno scambio culturale quindi ovviamente nella difficile situazione della striscia di gaza in cui anche solo avere degli skateboard o avere delle scarpe da indossare per poter praticare sport è difficile se non impossibile per cui anche le attività di autofinanziamento portate avanti da dieci anni aiutano queste persone i ragazzi dentro la striscia di gaza a poter praticare il loro sport e potersi ricavare del tempo di svago uno dei progetti più importanti che stiamo portando avanti e che quest'anno a dicembre avremmo dovuto portare concretamente nella striscia di gaza come la costruzione appunto della casa delle donne e quindi uno spazio sicuro per le donne per i loro bambini l'anno scorso è stato fatto il primo forum dedicato a questo a questo spazio per le donne e quindi tre giorni di workshop e di dibattiti con appunto al centro la figura femminile assieme alla sua autodeterminazione perché quello di cui siamo convinte che l'assistenzialismo e l'aiuto il mutualismo possono essere estremamente importanti ma è necessario che l'emancipazione lo sviluppo avvenga dall'interno purtroppo per quello che si sta continuamente ripetendo in questi giorni da più ormai di 25 giorni e diciamo che questa possibilità sta svanendo e noi siamo comunque in contatto costante con gli amici e le amiche e l'associazione all'interno di gaza che ripeto sono per sottolineare questa cosa più di 2 milioni di persone di cui il 70 per cento ha tra i 10 e i 25 anni per cui potete immaginare l'esplosione di energia e di voglia di fare e di sopravvivere semplicemente in una situazione che permette esattamente l'opposto immagino ci sia un forte senso di impotenza c'è tanti decenni per costruire qualcosa dei barlumi di libertà e poi davvero poche settimane per far crollare tutto il castello sì ad esempio in questi 10 anni il Gaza Freestyle Festival ha permesso di costruire due rampe da skate una al porto di Gaza City e una invece con parametri olimpionici a nord della striscia di Gaza al confine con Israele Erez e tutte queste possibilità che inizialmente parevano essere sogni e quello che appunto erano sono appunto distrutte dai continui e ripetuti attacchi da parte di Israele e la popolazione in questo momento noi appunto li stiamo contattando per quello che riusciamo perché la connessione è totalmente assente ma cerchiamo semplicemente di supportarli da lontano quella è l'unica cosa che possiamo fare purtroppo sì il senso di impotenza come diceva è tantissimo di fronte a una situazione in cui soprattutto dalla parte opposta del mondo cioè l'occidente dove viviamo noi in Europa la narrazione che viene dettata è unica e unilaterale non non valuta e non ammette più contesti rispetto a questa situazione che appunto non è nata purtroppo il 7 ottobre ma nel 1948 con l'esilio di migliaia di palestinesi e una riflessione sugli scenari di guerra internazionale sarà senz'altro al centro anche del 4 novembre la giornata di domani la giornata dell'unità d'italia e delle forze armate che verrà celebrata domattina alla caserma aldo del monte di pesaro oltre alle celebrazioni che si terranno a partire dalle 10 30 nell'occasione il 28esimo reggimento pavia aprirà le porte della caserma dalle 9 alle 13 alla cittadinanza con una mostra di mezzi e materiali delle forze armate e corpi armati non solo a pesaro non solo alla caserma del monte anche a valle foglia domani a partire dalle 10 si celebra il consueto momento commemorativo della festa dell'unità nazionale e della giornata delle forze armate in collaborazione con le associazioni nazionali combattenti eredici mutilati invallidi di guerra partigiani d'italia e delle famiglie caduti e dispersi in guerra ricordiamo che sempre domani alle 12 e 30 verrà inaugurata in questa occasione anche il monumento ai caduti di monte ciccardo arrivano sconti e promozioni per gli iscritti a pesaro studi il polo universitario di pesaro che quest'anno si è trasferito nella sede del quartiere di muraglia in via petrarca da oggi tramite l'iniziativa dell'assessorato all'innovazione gli studenti potranno usufruire delle proposte dei commercianti della zona tra via fratti e via guerini presentando il proprio badge universitario dai bar alle macellerie e dalla parafarmacia alla lavanderia sono 16 le attività del quartiere che hanno aderito a questa convenzione per gli studenti e come potete vedere da queste immagini è già arrivato oggi in piazza del popolo l'albero di natale che sarà il centro degli allestimenti di pesaro nel cuore primo sintomo del natale che il comune di pesaro inaugurerà ufficialmente il 26 di novembre con l'accensione dell'albero da 100.000 led e concludiamo il nostro telegiornale occupandoci delle weekend di sport che comincia già questa sera alle 20.30 al Palamega Box di Pesaro dove nel campionato di calcio 5 l'Ital Service ospita alle 20.30 la Sandro Abate Avellino ad appena due giorni dal pareggio 2-2 di Catania domani invece alle 20.30 turno d'anticipo per la VL che aspetta Napoli con la volontà di dare continuità all'impresa di Milano VL che oggi ha annunciato anche l'ufficialità della preventivata recensione del contratto con Gavin Schilling. Domenica 5 novembre alle 18 gioca invece al Palamega Box contro la Golden a Senigallia il Loreto Basket Loreto che ieri ha perso 81-76 il derby al vertice con il Bramante nel volle invece dopo la sconfitta infrasettimanale con Chieri la Megabox Vallefoglia sarà impegnata in trasferta domenica alle 17 contro Busto Arsizio e infine il calcio perché giocherà domenica alle 18.30 la Vispesero al Benelli con l'Arezzo Viz che arriva da sei turni utili consecutivi e vuole dare ulteriore continuità al suo rendimento in classifica Dopo tanto migrare per la Vispesero arriva la seconda partita nell'arco di sei giorni davanti al pubblico amico del Benelli dopo l'1-1 interno col Pineto arriva Pesero-Larezzo reduce dalla vittoria interna col Gubbio che spedisce Toscania 14 punti in classifica ovvero tre in più dei pesaresi che sono arrivati al sesto turno utile consecutivo ma con 11 punti in 11 gare sono ancora in linea di galleggiamento play-out una continuità che dunque urge mantenere per proseguire la risalita in classifica Io sono contentissimo di questa squadra, di questo gruppo, di questi ragazzi però vedo veramente che ha margini migliorativi enormi, quotidiani e quindi lavoriamo per quello perché nell'essere molto felice e fiero di allenarli vedo che abbiamo margini migliorativi e bisogna lavorare tanto e sodo per migliorare quindi questo è il tema di ogni seduta di allenamento arrivare al campo con quell'obiettivo lì Di gara in gara prepariamo le cose sulle quali possiamo essere forti e dobbiamo cercare di limitare al massimo le caratteristiche loro che hanno caratteristiche offensive forti Viscono un occhio la preparazione della partita e un altro l'infermeria dove rimarranno ancora il portiere neri e Blu Mamona e dove si valuta la refinitura per capire se gli acciaccati Zoe e Zagnoni potranno essere del match In attacco recupera Silla ma l'islandese Carlson è costretto a fermarsi di nuovo In quell'impatto ha avuto la frattura dello zigomo quindi è stato un impatto forte e quindi Carlson lo perdiamo per un po' di tempo vediamo quanto ci diranno i medici Si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News come di consueto vi ricordiamo la nostra prima serata che comincia alle 21.20 con il nostro speciale realizzato a Tavuglia trekking Tavuglia questo il programma di questa sera alla scoperta di un'escursione storico-culturale sulle colline tavugliesi Prima serata che continua alle 21.40 con la cerimonia delle premiazioni della 70esima edizione del GAD Festival Nazionale d'Arte Drammatica premiazione che è stata domenica che vi abbiamo anche mostrato nel nostro Tg potrete vedere l'approfondimento completo questa sera come detto alle 21.40 E poi come sempre l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini rassegna stampa del sabato come di consueto in diretta dalle 7.20 E si chiude invece qui lo spazio informativo di Rossini News vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei programmi di Rossini TV